cari amici di radomaria buona giornata a tutti sulle nove e due minuti di giovedì primo settembre 2022 pace e gioia a tutti voi cari amici in ascolto e che la luce della parola video guidi i nostri passi nel corso di questa giornata sulla via della verità del bene sulla via della pace andiamo al nostro programma la lettura cristiana della cronaca della storia incominciamo con un pensiero spirituale che oggi è piuttosto impegnativo cari amici anche da parte vostra richiederebbe un po di attenzione cioè il pensiero che abbiamo già svolto comunque nei giorni scorsi che è riguarda la domanda di cugnosi ascoltatori sulle diciamo così sulle critiche o gli attacchi di vario genere che vengono fatte alla chiesa santo padre e quale deve essere il nostro atteggiamento io vi ho già detto più di una volta che la regina della pace che ha insegnato a me giugorie ad amare i nostri pastori e a pregare per loro quindi questo è l'atteggiamento di fondo di fatti abbiamo anche organizzato questa novena con tutte le radunioni del mondo proprio anche per questo importante assemblea di pescovi tedeschi su questioni dottrinali di molto delicate perché tutto si svolga in comunione con la chiesa e con successore di pietro questa è la via che la madonna ci ha indicato però volevo volevo ricordare a tutti voi che questo comunque un problema molto serio perché la madonna dal 2009 al 2015 al termine dei messaggi a miriana o attraverso miriana tutti noi la madonna ha invitato a pregare per i pastori ma anche nel medesimo tempo ogni volta ha usato una formula diversa quasi a indicare qualche qualità particolare dei pastori qualche elemento che lui magari ci sfugge che invece fa parte diciamo così della loro vocazione soprannaturale del loro compito soprannaturale insomma il fatto che la madonna abbia dato ben 65 messaggi sui pastori fa pensare che quando la madonna fa così come quando fa pregare per la pace vuol dire che c'è una minaccia c'è una minaccia che viene dal diavolo il quale ovviamente ha i suoi piani che sono sempre quelli ovviamente danneggiare la chiesa di divisione nella chiesa e la madonna che è la regina della pace che è la madre della chiesa ha comunque il potere di poter sventare le insidie del maligno se noi li aiutiamo con le nostre preghiere allora io ho fatto questo lavoro di raccogliere questi queste esortazioni della regina della pace dal 2009 al 2015 e adesso le leggo tutte su due paginette le leggo con calma e intanto meditate quello che leggo e così facciamo anche un esame di coscienza se veramente ci comportiamo in rapporto ai pastori della chiesa come la madonna desidera allora incominciamo non dimenticate ovviamente tutti i messaggi incominciano con cari figli questa è la chiusura del messaggio a miriana non dimenticate i vostri pastori pregate che non si perdano e che restino il mio figlio affinché siano buoni pastori per i loro greci ancora una volta vi invito alla preghiera per i vostri pastori per i vostri pastori per i vostri pastori perché dio li aiuti ad essere accanto a voi con tutto il cuore vi invito a pregare con tutto il cuore per i vostri pastori perché mio figlio li ha scelti prego in modo particolare per i pastori affinché siano degni rappresentanti di mio figlio e affinché vi conducono con amore sulla strada della verità in modo particolare vi prego di non giudicare i vostri pastori figli miei dimenticate forse che il padre li ha chiamati pregate vi invito di nuovo pregate per i vostri pastori di nuovo vi prego pregate per coloro che mio figlio ha scelto cioè i vostri pastori pregate per i vostri pastori affinché uniti in mio figlio possono sempre con gioia annunciare la parola di dio non dimenticate i vostri pastori pregate perché nei pensieri siano sempre con mio figlio che li ha chiamati affinché lo testimonino figli miei non potete andare avanti senza pastori che ogni giorno siano nelle vostre preghiere prego ogni giorno per i pastori e mi aspetto lo stesso da voi perché figli miei senza la loro guida preghiere il rafforzamento che vi viene per mezzo della benedizione non potete andare avanti pregate con me per i vostri pastori di nuovo vi ammonisco non giudicateli perché mio figlio li ha scelti pregate pregate per i pastori perché niente di tutto questo cioè di stimolare la verità e l'amore sarebbe possibile senza di loro figli miei pregate per i pastori che le vostre labbra siano chiuse ad ogni condanna perché non dimenticate mio figlio li ha scelti e solo lui ha il diritto di giudicare pregate per i vostri pastori perché attraverso il vostro digiuno e la vostra preghiera possono guidarvi nell'amore prego e veglio particolarmente su coloro che mio figlio ha chiamato perché siano per voi portatori di luce e portatori di speranza per i vostri pastori di nuovo vi ammonisco pregate pregate per coloro che mio figlio ha chiamato ha benedetto ha benedetto le loro mani e li ha donati a voi pregate 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 per i vostri pastori figli miei mio figlio vi ha donato i pastori custoditeli e pregate per loro amate i vostri pastori come li ha amati mio figlio quando li ha chiamati a servirvi cari figli offrite ai vostri pastori la gioia dell'amore e del sostegno così come mio figlio ha chiesto a loro di offrirlo a voi nuovamente vi invito solo con i miei pastori il mio cuore trionferà non permettete al male che vi separi dai vostri pastori nuovamente vi invito amate i vostri pastori e pregate perché in questo tempo difficile in nome di mio figlio si glorifichi attraverso la loro guida pregate per i vostri pastori perché abbiano sempre amore per voi come l'ha avuto e mostrato mio figlio dando la sua vita per la vostra salvezza pregate per i vostri pastori e bramate di conoscere in comunione con loro l'amore del padre celeste pregate per i vostri pastori perché un raggio della grazia di dio illumini le loro vie pregate per i vostri pastori e confidate nelle loro mani benedette pregate perché i vostri pastori con le loro mani benedette vi diano sempre la gioia della benedizione di dio pregate pregate per i vostri pastori io prego per loro e desidero che sentano sempre la benedizione delle mie mani materne e il sostegno del mio cuore materno io sono sempre accanto ai vostri pastori e prego che siano sempre per voi un esempio di umiltà io sono con voi in modo particolare sono con i vostri pastori li amo e li proteggo con cuore materno perché essi vi guidino al paradiso che mio figlio vi ha promesso pregate per i vostri pastori affinché possano sempre con cuore puro guidarvi sulla strada della verità e dell'amore la strada di mio figlio cari figli miei mentre i vostri pastori con le loro mani benedette vi offrono il corpo di mio figlio ringraziate sempre nel cuore mio figlio per il suo sacrificio e per i pastori che vi dà sempre di nuovo io prego mio figlio affinché attraverso l'amore vi doni l'unione per mezzo suo l'unione fra voi e l'unione tra voi e i vostri pastori mio figlio sempre vi si dona nuovamente attraverso di loro e rinnova le vostre anime non dimenticate questo io sono sempre accanto a voi sono in modo particolare accanto ai vostri pastori perché mio figlio li ha chiamati a guidarvi sulla via verso l'eternità vi prego nuovamente di pregare per i vostri pastori affinché guardino sempre a mio figlio che è stato il primo pastore del mondo e la cui famiglia e nel mondo intero pregate per poter vedere mio figlio nei vostri pastori pregate per poterlo abbracciare in loro pregate anche per i vostri pastori per coloro che hanno rinunciato a tutto per mio figlio e per voi amateli e pregate per loro il padre celeste ascolta le vostre preghiere pregate per i vostri pastori affinché abbiano la forza e l'amore per essere dei ponti di salvezza vi chiedo di pregare per i vostri pastori affinché abbiano l'amore in ogni momento e agiscono con l'amore verso mio figlio per mezzo di lui e in memoria di lui pregate per la vostra chiesa amatela e fate opere di amore per quanto sia tradita e ferita essa è qui perché proviene dal padre celeste pregate per i vostri pastori per vedere in essi la grandezza di mio figlio cari figli di nuovo maternamente vi prego pregate per gli eletti di mio figlio per le loro mani benedette per i vostri pastori affinché possano predicare il mio figlio con quanto più amore possibile e così suscitare conversioni il mio cuore materno ama in modo particolare i pastori pregate per le loro mani benedette per le loro mani benedette figli miei chiedete sempre soltanto la benedizione di coloro le cui mani mio figlio ha benedetto ossia dei vostri pastori pregate pregate sempre per i vostri pastori affinché abbiano la forza di essere la luce di mio figlio pregate per i vostri pastori con sentimento affinché possano testimonare mio figlio con amore pregate affinché i vostri pastori abbiano quanta più luce possibile per poter illuminare tutti coloro che vivono nelle tenebre figli miei non dovete dimenticare di pregare per i vostri pastori figli miei pregate e amate i vostri pastori come miei figli vi chiedo pregate molto per la chiesa e per i suoi ministri i vostri pastori affinché la chiesa sia come mio figlio la desidera limpida come acqua di sorgente e piena di amore cari figli vi prego nuovamente come madre che vuole bene sui figli amate i vostri pastori pregate per loro vi invito nuovamente alla preghiera per i vostri pastori per coloro che mio figlio ha chiamato ricordate che hanno bisogno di preghiere di amore aiutate con la preghiera i vostri pastori perché possono essere dei padri spirituali colme di amore verso tutti gli uomini vi invito di nuovo figli miei pregate per i vostri pastori pregate che l'amore di mio figlio possa guidarli io sono con voi in modo particolare sono con i vostri pastori col mio cuore materno l'illumino e l'incoraggio affinché con le mani benedette da mio figlio benedicano il mondo intero pregate per i pastori per coloro le cui mani mio figlio ha benedetto sono qui per dirvi di credere di perdonare di pregare per i vostri pastori e soprattutto di amarli senza limiti figli miei seguitemi la mia via è la via della pace dell'amore la via di mio figlio è la via che porta al trionfo del mio cuore con la materna benedizione benedico anche i vostri pastori voi che dite le parole di mio figlio qui la madonna si rivolge i pastori adesso con la materna benedizione benedico anche i vostri pastori poi si rivolge a loro voi che dite le parole di mio figlio che benedite con le sue mani e lo amate tanto da essere disposti a fare con gioia ogni sacrificio per lui voi seguite lui che è stato il primo pastore il primo missionario pregate affinché i vostri pastori risplendano dall'amore di mio figlio pregate per i vostri pastori perché essi sono la forza della chiesa che mio figlio vi ha lasciato per mezzo di mio figlio e ci sono pastori delle anime pregate per la santità dei vostri pastori perché la santità opera miracoli pregate per i vostri pastori essi appartengono a mio figlio lui li ha chiamati vi prego pregare molto per i vostri pastori di pregare per avere quanto più amore possibile per loro perché mio figlio ve li ha dati finché vi nutrano col suo corpo e vi insegnino l'amore carissimi questa è una raccolta dell'esultazione della madonna che ci ha rivolto al termine dei messaggi americana dal 2009 al 2015 come vedete cari amici la madonna in ogni non c'è una non c'è un'esultazione uguale all'altra sono tutte diverse e ogni volta la madonna mette in evidenza qualcosa di bello nei pastori soprattutto le loro mani meredette è la cosa che ritorna più spesso per pastori la madonna ovviamente intende i sacerdoti vescovi ovviamente i cardinali e il papa insomma i sacerdoti e i vescovi perché poi se i cardinali sia il papa sono vescovi insomma sono i ministri dei sacramenti più importanti come l'eucaristia la confessione comunque sia cari amici vedete quanta fiducia la madonna mette nei pastori quanto li quanto li ami quanto preghi per loro esorta anche noi a fare come lei ad amarli a sostenerli ad aiutarli a proteggerli anche e a esortarli con la nostra fede personale e vorrei dire questo ci è anche ci fa anche comprendere qual è il posto dei pastori nella chiesa un posto molto importante mio figlio li ha scelti è una chiamata particolare ci auguriamo che ci siano anche oggi tanti che rispondono a questa chiamata che ci siano tante mamme e papà che capiscono il grande dono di una vocazione sacerdotale per i loro figli ma che anche i giovani se sentono questa chiamata che rispondano con generosità perché comunque essere i pastori delle anime si assimila a cristo come nessun'altra cosa certo cari amici questa sequenza di esortazioni ci mostra la grande preoccupazione della madonna poi da allora dall'ultima esortazione non ha più detto nulla se la madonna ha messo da parte tutte le preghiere che ne serviranno oggi e anche nel tempo della grande tribolazione quando satana assalterà la chiesa dall'esterno e dall'interno cari amici queste preghiere che la madonna ci ha chiesto saranno fondamentali perché lei ha detto io con i miei pastori vincerò io con i vostri pastori vincerò ecco cari amici sono andiamo avanti anzi volevo dirvi che questi pensieri del mattino vengono tutti raccolti raccolti anche in una diciamo così in un video a parte che è chiamato al manaco per cui lo potete scaricare anche solo per questo quindi risentire anche queste esortazioni della madonna che che sono preziose insomma e per contrastare quell'ondata di critiche di malevolenze di accuse è tutta roba che viene dal diavolo tutta roba che viene dal diavolo perché da dio viene la preghiera viene l'amore viene il rispetto viene la luce della fede viene il sostegno e viene la carità non arrivano le critiche se vuoi fare bene una persona che non fa bene prega per lei è inutile che tu l'attacchi e possiamo dire che una buona parte anche dei siti cattolici sul web si esercitano in questa critica quotidiana ai pastori ora che ci sia scambio di idee ovviamente questa è una cosa normale c'è anche un cammino nella fede che si fa tutti insieme ma sempre nella carità nel rispetto è tenuto conto che diverse sono le responsabilità sono i pastori hanno un compito speciale che non abbia che non hanno i laici per quanto riguarda proprio la conduzione delle anime la responsabilità del gregge la responsabilità della dottrina quindi abbiamo tutti un buon esame di coscienza da fare e adesso invece giriamo pagina e andiamo alla pagina italiana dunque come vedete se prendo in mano i giornali o il caro gas o il caro bollette o l'inflazione qua la cosa là ovviamente non ho perduto tempo in queste cose vorrei dire che a mio parere mancano diversi temi alla campagna elettorale o si sono messi d'accordo di parlare di cose futuri non lo so però insomma a mio parere c'erano tanti argomenti importanti da affrontare anche sul piano politico sul piano concreto diciamo della politica internazionale insomma vi ho spiegato ieri il pericolo gravissimo che corre all'occidente e che corre anche la chiesa cattolica di fronte alle velleità di un imperialismo etnico russo ortodosso che procede armato e ha intenzioni poco raccomandabili sono cose reali vere che alcuni non vogliono vedere ma sono affari loro ma chi è responsabile della politica deve occuparsi di cose importanti cioè deve capire che l'Europa è in pericolo che l'Italia è in pericolo che il cattolicesimo è in pericolo l'ho spiegato ieri leggendo l'articolo di Luca della Torre sui progetti dell'impero russo ortodosso e dell'attuale dirigenza russa allora un altro tema di cui si parlasse in questa campagna elettorale sarebbe quello della famiglia cioè che ci siano almeno dei partiti che esplicitamente pongano la famiglia sul piano diciamo sul piatto della discussione cioè quale famiglia non la famiglia qualsiasi la famiglia naturale quella fondata sul matrimonio fra uomo e donna perché questa è la famiglia che è la cellula della società a noi stiamo distruggendo la famiglia ma nel medesimo tempo distruggiamo noi stessi e distruggiamo il nostro futuro cioè si aspetta che la politica a riguardo faccia la sua parte cioè ovviamente anche la gente deve fare la sua parte i giovani devono fare la loro parte devono avere più coraggio devono avere un progetto di vita concreto la famiglia è il normale progetto di vita devono pensare a mettersi una famiglia devono pensare ad avere dei figli e quindi avere questa prospettiva di positiva in modo tale che la vita non sia poi sia un vuoto che genera noia e che genera disperazione e che genera nausea nella vita bisogna avere dei progetti da realizzare progetti validi vederla come una missione da compiere e la famiglia è una missione da compiere questo dobbiamo farlo noi personalmente anche noi educatori noi che dobbiamo proporre ai giovani questo normale ideale di vita che è l'amore fra un uomo e una donna che è il matrimonio monogamico indissolubile orientato alla procreazione che è l'educazione dei figli insomma è ciò che riempie la vita dell'uomo perché anche il lavoro fino a se stesso non è in grado di poter soddisfare fino in fondo a meno che non sia una missione particolare quindi ma la politica deve fare la sua parte cioè la politica non deve far finta di aiutare la famiglia e poi l'aiuta mai non deve far finta di dare degli aiuti economici poi di fatto non li dà mai bisogna che la legislazione e sul piano economico e sul piano sociale cioè promuovere la famiglia promuovere il lavoro dei giovani promuovere quindi una stabilità anche dal punto di vista economico quello è il compito della politica e invece non si parla di questa cosa che è importantissima cioè noi vediamo dei ragazzi che crescono, convivono non realizzano niente consumano la vita alla fine non ci sarà neanche chi li seppellisce questo è il tipo di società nel quale c'è l'aver paura a vivere insomma questa è la mia proposta che faccio e cioè che nelle come si dice nelle restanti settimane che ci separano 25 settembre si incomincia a parlare di cose serie giustamente c'era un'editoriale di Mieri sul Corriere di qualche giorno fa che diceva è incredibile come in questa campagna elettorale non si parla del problema più importante che abbiamo e che è la guerra in Ucraina e lo schieramento internazionale e il futuro che ci sta davanti ci si attarda sugli effetti di questa guerra che sono calo energia eccetera ma non la si considera nella sua pericolosità e nella sua prospettiva che può portare alla catastrofe questo è quanto ieri cari amici avevo accennato quindi adesso vado a toccare di nuovo questo problema che ieri avevo accennato ma non l'ho fatto in tempo perché c'era tanto materiale ieri ad approfondire adeguatamente in ogni caso ho messo sia sul sito di ieri sia sul blog il mio blog di oggi quell'articolo di Luca della Torre pubblicato dal sito Corrispondenza Romana che ci spiega che cos'è questa guerra cioè il vero problema è interpretare questa guerra cioè c'è una fetta dalla popolazione nostra che è stata deviata guardate che se credete che io parli in termini come si dice da un canto e dall'altro no non sono il tipo io prendo posizione sulle cose cioè c'è una parte della nostra popolazione che è molto semplicemente deviata dalla propaganda russa la propaganda russa per chi non lo sapesse è la più presente ovunque nel mondo e ci hanno presentato diciamo così l'attuale fase della della politica russa internazionale come non lo è in realtà perché in realtà è qualcosa di molto diverso cioè è stata presentata la figura di Putin lo dico perché anch'io ci sono cascato in questo tranello come la figura di una moralista internazionale che si proponeva di eliminare storture in occidente ma e la pederastia il genere eccetera che lui avrebbe fatto piazza insomma ce lo presentavano come moralizzatore in realtà la realtà la realtà è molto diversa cioè la realtà è quella che vi ho spiegato ieri vi ho spiegato in due miei editoriali un intitolato diventeremo tutti ortodossi l'altro la terza Roma il nuovo impero russo ortodosso vi ho spiegato quel che sta accadendo ma adesso ve lo sintetizzo di nuovo perché abbiate idee chiare cioè sta accadendo qualcosa di molto grave cioè praticamente sta accadendo qualcosa che di cui le cancellerie internazionali i gruppi militari internazionali erano a corrente ma la gente anche la stampa la gente non era a corrente la stampa ha slobato quello che è stato un programma messo a fuoco da Putin e dei suoi diciamo di Ruschimir che è l'associazione che lui ha fondato e che è quella che sta elaborando che ha elaborato un programma che adesso stanno mettendo mettendo in atto cioè il programma di carattere etnico cioè l'esaltazione dell'etnia russa come un'etnia che ha una missione internazionale una etnia particolare che è ha il destino di dominare nel mondo e di portare la salvezza nel mondo questo è diciamo così un aspetto che ci era presente ma non sapevamo che era così condiviso e così radicato dal popolo quindi da questa partenza questo è il punto di partenza la necessità di riunire tutti i russi che sono 25 milioni di minoranze fuori dalla federazione russa e di entrare in tutti quei paesi dove i russi sono presenti e quindi di estendere questo è il primo passo da fare il proprio dominio praticamente a tutta l'Europa orientale ma in realtà la missione è per tutto il mondo e il primo continente che deve essere russificato è proprio l'Europa ma questo è scritto detto è presente io vi prego per quelli che vogliono approfondire veramente di rileggere l'articolo di Luca Dell'Atore che vi ho pubblicato ieri cioè in poche parole si tratta veramente di una nuova forma di imperialismo che mette a suo quadro il mondo e che rischia di scatenare una guerra mondiale quindi è una forma di razzismo insomma come la famosa razza ariana del Führer questo l'ha ben visto Ernesto Galli della Loggia quando ha parlato appunto di questa affinità fra l'esaltazione etnica della razza russa o della russa come loro dicono l'esaltazione della razza ariana lo mette accanto al Führer questo lo diceva Ernesto Galli della Loggia ma ovviamente se l'ha detto avrà avuto le sue ragioni quindi cari amici c'è questa vocazione di Mosca erede dell'impero bizantino che occupa comunque il 20% della superficie mondiale che vuole riprendersi quello che ha perso quando è avvenuto il crodo dell'impero sovietico cioè praticamente tutta l'Europa orientale compresa ovviamente il primo boccone come dice Putin come dice Dugin il primo boccone dell'Ucraina ma anche i paesi baltici che hanno delle minoranze russi tutti i paesi che hanno delle minoranze russe tutti i balcani arrivando fino all'Italia l'Italia sta particolarmente a gola e a questa a questa prospettiva punta su Roma per quale motivo per la semplice ragione che loro questa ideologia del Ruschimir di mondo russo che è un'associazione fondata da Putin nel 2017 insieme a Kirill ha due pilastri il primo pilastro la superiorità della etnia russa e la sua missione salvifica nel mondo secondo pilastro è il primato della religione ortodossa che è la vera che solo la religione ortodossa è divina rivelazione quindi è l'unica comunità ecclesiale che ha conservato la divina rivelazione per loro quindi il cattolicesimo non solo i protestanti ma anche i cattolici hanno deviato dalla rivelazione divina e quindi il cattolicesimo e il papato sono ritenuti una religione deviata quindi obiettivo di arrivare a Roma e di in poche parole ortodossificare la chiesa cattolica non so cosa vorranno fare ma certo che il comportamento di Kirin molto sicuro di se stesso è quello di uno che grazie grazie alla potenza militare russa spera di diventare presto il padre spirituale del mondo sono cose purtroppo a sentirle sono incredibili ma di fatti lo diceva quel giornalista lusso al meeting di Rimini quello che avevo citato tante volte a Kangelowski che diceva è incredibile cosa dicono e cosa pensano sembra impossibile che si possano pensare certe cose eppure le pensano e le fanno perché come abbiamo sentito da Putin fin dall'inizio la Ucraina andava denasificata andava russificata e andava ovviamente sottomessa dalla regione ortodossa quindi cari amici questa è una è una è una realtà questa è la la vera interpretazione di questa guerra cioè il tentativo egemonico e a livello politico e a livello religioso nel mondo e per questo si può aiutare anche dalla Cina ma insieme a questo c'è anche la demolizzazione dell'Occidente e di tutta la civiltà occidentale fin dalle origini cioè bisogna fare piazza pulita di tutto ciò che noi abbiamo prodotto in 2000 anni perché la verità l'umanità la come si dice la sacralità la moralità è tutta è tutta nell'impero russo che ha revitato Bisanzio sono loro i portatori dei valori capito i portatori della salvezza e insieme diciamo così esportano quello che noi possiamo chiamare la 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 dittatura strutturale della loro società dove comanda uno comandano comandano i tutto abbienti cioè gli oligarchi il popolo ha un livello di vita non molto superiore a quello degli africani perché questa è la realtà e e quindi esportano nel mondo quella che sarebbe la loro civiltà cioè un modello di società collettivista che nega la libertà dalla persona questo è quanto è in atto allora io volevo volevo cari amici io non sono qui a convincere nessuno sono qui a guardare le cose come stanno perché io stesso ho aperto gli occhi perché prima vedevo le cose differentemente poi ho aperto gli occhi perché comunque l'odore di zofo prima o poi si sente e vi ricordate cari amici due messaggi enigmatici della regina della pace dati uno nel giugno del 2021 l'altro nell'ottobre del 2021 enigmatici tanto è vero che noi non li abbiamo capiti abbiamo anche sbagliato interpretarli nel nel giugno del 2021 quindi giorno dell'anniversario la madonna ha detto pregate con me per la pace e la libertà mai aveva detto la madonna di pregare per la libertà è la prima volta che ha pregato per la libertà e la madonna annuncia sempre qualche mese prima i pericoli che incombono affinché noi possiamo pregare per evitare infatti pregate per me per la pace e la libertà infatti questo l'ha detto nel giugno del 2021 poi l'ha ribadito ho anche qui una espressione nuova che è veramente nuova nel messaggio della madonna Dio è amore sì questa non è nuova però ho detto Dio amore è libertà allora noi come al solito acceccati come siamo l'abbiamo applicato a green pass roba da ridere insomma tutti sapevano che green pass era una cavolata che sarebbe durata poco invece la madonna quando dice pregate per la pace e la libertà annunciava lo scatenamento della guerra che è una guerra che distrugge la pace e la libertà dei popoli e difatti la madonna nel messaggio del febbraio del 2022 ha paragonato questa aggressione della Russia all'Ucraina come lo scatenamento del furore di Satana e del suo potere di morte e di paura e di odio nel mondo chiaro? c'è tutto chiaro adesso o no? quindi cari amici questa è a mio parere l'ante ci siamo entrati nel tempo della grande prova c'è ancora di mezzo la Russia non so la Cina che ruolo avrà che cosa vorrà fare probabilmente resterà fuori probabilmente resterà fuori la vera battaglia è qui in Europa fra la Russia che vuole fare così il suo impero ortodosso e noi che dovremo difenderci sia pure con l'aiuto degli americani per fortuna che ci aiutano di fronte a questa incredibile incredibile come dire progetto razzista pieno di presunzione di superbia di odio contro gli altri scusate ma io la cosa la vedo così ma voi leggete i testi voi leggete i testi di Dugin c'è da rabbrividire poi c'è questo articolo di Luca della Torre che cita tutti gli altri nomi ancora più importanti di quelli di Dugin come Gumeliev Costantin Leontaev e altri Segei Karaganov cosa è più famoso e poi anche Dugin sono tutti diciamo così il gruppetto che ha elaborato il progetto ovviamente il capo è Putin del Ruschimir del grande impero russo ortodosso che comunque per prima cosa fa gocita all'Europa dopodiché provvederà a fare tutto il resto ovvio che andando avanti ci sarà una catastrofe chi si salverà si salveranno i Mariani perché la Madonna ce l'ha promesso che ci aiuterà questa dunque è la prospettiva se volete se volete vedere le cose come sono se invece volete costruire una tranquillità falsa fate pure sono cose vostre ok siamo arrivati finalmente al blog carissimi come vi dicevo ho messo sul blog l'articolo di Luca dell'attore Ruschimir la dottrina del dominio del mondo di Putin non è un editoriale è uno che ha insegnato anni è un giurista nelle università russe li conosce bene dunque ieri cari amici una signora mi ha inviato un testo di Luisa Piccarreta questa serva di Dio nata a Corato Bari nel 1865 e morte nel 1947 nel quale alla quale la Madonna ha mostrato cosa fa la Madonna alla quale la Madonna ha mostrato in una visione quello che fa la Madonna nei tempi delle grandi calamità per salvare i suoi figli è bellissimo e ve lo leggo dunque scrive Luisa Piccarreta il mio caro Gesù mi faceva vedere quei fatti che la sovrana regina cioè la Madonna scendeva dal cielo con una maestà indicibile e una tenerezza tutta materna e girava in mezzo alle creature in tutte le nazioni e segnava i suoi cari figli e quelli che non dovevano essere toccati dai fragelli chiunque toccava la mamma celeste i fragelli non avevano potere di toccare le creature cioè tutti quelli che la Madonna toccava i fragelli non potevano toccarli il luogio Gesù le dava il diritto alla mamma sua di mettere in salvo chi le piaceva come era commovente vedere girare in tutte le parti del mondo l'imperatrice celeste che prendeva fra le sue mani materne se li affiatava al suo petto li nascondeva sotto il suo manto affinché nessun male potesse nuocere coloro che la sua materna bontà teneva in custodia custoditi e difesi o se tutti potessero vedere con quanto amore e tenerezza faceva questo ufficio la celeste regina piangerebbero di consolazione e amerebbero con lei che tanto ci ama quindi cari amici come ha detto la Madonna a Međugorje se siete miei vincerete tutti quelli che la Madonna tocca e dice sono suoi questi sono miei non possono essere toccati dei fragelli quindi tocca a noi chiedere alla Madonna di metterci sotto il suo manto e sotto la sua protezione mi viene in mente anche una bella frase di Miriana ho pubblicato sul blog proprio la sua intervista a puntate che diceva chi ha Dio per padre e Maria per madre non ha nulla a temere per quanto riguarda il futuro quindi se abbiamo Dio per padre e la Madonna per madre guardiamo pure al futuro con serenità allora questa era dunque Luisa Piccarretta ho ricevuto diverse lettere e ho scelto una particolare che si prestava a una risposta un po' che era necessaria è intitolata in un modo un po' provocatorio cioè i nemici di Radio Maria dunque caro padre Livio grazie per la sua presenza durante questa estate anch'io quando ero in ferie ho potuto seguire sia la radio che il blog da tempo volevo fare una domanda personale ma che però riguarda Radio Maria ormai sono passati 35 anni dall'inizio ufficiale di Radio Maria e mi chiedo come abbia potuto crescere ininterrottamente senza momenti di crisi fino ad essere uno dei mass media cattolici più presenti nel mondo sappiamo di molti attacchi e di molte critiche venute dai giornaloni ma non di rado anche da uomini di chiesa la sua persona è molto amata ma anche molto avversata lo so ma non è che non è che perde buon umore ecco eppure lei è eternamente sorridente e sempre al suo posto ogni giorno mi conosce bene questo qua possibile che non le sia mai venuti alla voglia possibile che non le sia mai venuta la voglia mi perdoni l'espressione di mandare tutti a quel paese e di godersi un po' di vita normale mia moglie dice che non lo farà mai che Dio la benedica e la conservi a lungo fra di noi Ludovico di Lodi allora cari amici mi chiede possibile che non le sia mai venuta la voglia mi perdoni l'espressione di mandare tutti a quel paese e di godersi un po' di vita normale mia moglie dice che non lo farò mai che non lo farà mai che Dio la benedica e la conservi a lungo fra di noi Ludovico da Lodi io ho preso l'occasione per dare per tirare fuori qualche sassolino dalle scarpe che da un po' che ce li avevo e li ho tirati fuori e ho risposto per come per le rime come era necessario rispondere però la risposta l'ho già messa su sul blog ve la leggo domani chi vuole leggere oggi vada a vederla sul blog blog di paderevio punto it per quanto riguarda se usa google oppure blog di paderevio punto it tutto attaccato minuscolo ovviamente invece se si vuole entrare attraverso il sito che era domaria punto it quasi in alto a destra c'è il blog potete entrare così vedete anche la risposta che ho dato e con la quale ovviamente da tempo ma ho pazientato volevo togliermi qualche sassolino dalle scarpe senza attaccare nessuno per carità dunque cari amici con questo abbiamo terminato la nostra lettura cristiana della cronica della storia stiamo facendo questa bellissima novena insieme a tutte le due marie del mondo per l'assemblea dei vescovi in Germania ce l'ha chiesto la don Maria Germania preghiamo con fervore perché tutto perché la Madonna faccia andare le cose come lei desidera che vadano preghiamo con fervore come abbiamo fatto quest'estate per la pioggia e per la siccità siamo all'inizio del mese sono qui a dirvi aiutati alla don Maria perché senza di voi andiamo da nessuna parte senza di voi non possiamo andare avanti i sacrifici oggi valgono il doppio perché sappiamo quanti pesi ci sono sulle famiglie però credo che portare avanti la don Maria sia veramente un dovere è una qualcosa che dobbiamo alla Madonna che ce l'ha donata a restate cari amici sempre in sintonia sulla nostra dolcissima Radio Maria